ciao stai provando a vendere casa in privato da più di tre mesi senza concretizzare ancora nulla posso immaginare cosa succede ti sarà capitato sicuramente un acquirente che ti chiede i documenti della casa senza nemmeno discutere l'offerta che vorrà fare e tu ti chiederai ma è giusto dare i documenti personali prima di conoscere l'offerta oppure questa dopo un'ora di visita bella la casa ma non serve una camera in più oppure tanti complimenti per la vista la risotturazione la terrazza vista mare ma offerte niente se sta vivendo anche solo una di queste circostanze probabilmente hai bisogno di un piccolo aiuto sapere come comportarti in queste occasioni significa conquistare l'acquirente ideale ai tuoi bisogni evitare le perdite di tempo ma soprattutto realizzare la vendita evitando offerte a ribasso se non mi conosci ancora mi chiamo andrea andrea ruocco e sono un consulente immobiliare aiuto le persone che devono vendere casa a salerno entro i tre mesi in questo periodo difficile per tutti ho deciso di dare il mio piccolo contributo offrirti gratuitamente una consulenza individuale finalizzata ad aiutarti a vendere casa ed evitarti perdete il tempo ma soprattutto soldi chiamami e fissa la tua consulenza gratuita di 30 minuti risponderò tutte le tue domande e ti darò qualche suggerimento prezioso chiamami ora